Bentornati amici, oggi voglio farvi vedere qualcosa di nuovo. Andiamo infatti a scoprire come si realizza una sfida delle 27 foto all'interno dell'applicativo di Premiere Pro. La 27 Photo Challenge l'avrete sicuramente vista sui social, è girata nei giorni passati, gira tuttora. È una sfida divertente, è una cosa che riguarda soprattutto fotografi e creator ovviamente perché si tratta di mettere in sequenza una serie di immagini che noi abbiamo realizzato. Quindi andiamo direttamente all'interno dell'applicativo e vediamo come si fa a realizzarla in pochissimo tempo. Bene, eccoci qui all'interno dell'applicativo di Premiere. La prima cosa che andiamo a fare andiamo a importare un file che abbiamo scaricato da internet, quindi è un file con una sfida delle 27 foto già fatta. Andiamo a importarlo all'interno della nostra timeline. Quello che facciamo è che lo prendiamo e lo trasciniamo sull'icona del nuovo documento, così abbiamo un nuovo documento con già le impostazioni corrette. Come potete vedere questa è una sfida già fatta da qualcun altro. Andiamo a posizionarci alla fine, mettiamo già il marker dell'out, andiamo a posizionarci col cursore e scopriamo che è lungo 14 secondi, quindi un po' meno di 15, così ci sta perfettamente all'interno dei reels. Ora ci portiamo all'inizio, lo facciamo partire e quello che facciamo è che cerchiamo di andare a tempo con la musica. Premiamo il tasto M in rapida sequenza cercando di stare sul beat della canzone che stiamo sentendo avendo cura di aver selezionato la traccia. In questo modo vedete che compaiono dei marker sulla traccia. Questi marker ci serviranno per posizionare a tempo le nostre foto. Andiamo a prendere le nostre foto che abbiamo precedentemente selezionato, le prendiamo, le trasciniamo dentro. Ecco qui, come potete vedere la prima è lunga 5 secondi e si posiziona già praticamente giusta. Tutte le altre sono tutte lunghe 5 secondi, quindi non vanno bene. Le selezioniamo tutte, prendiamo il tasto destro e andiamo a selezionare velocità e durata. Da qui possiamo scegliere di impostare 12 centesimi di secondo e abbiamo cura di tenere spuntata questa V. In questo modo vedete che abbiamo già ridimensionato tutte le nostre foto più o meno al tempo che ci serve. Adesso quello che andiamo a fare è che andiamo a riposizionarle, andiamo a cercare di matchare il beat che abbiamo sentito quando abbiamo messo i marker. Quindi cerchiamo di essere più o meno precisi su questa cosa, più precisi siamo e meglio sarà il risultato finale perché diciamo che se le foto seguono la musica è meglio. Per fare questo lavoro ovviamente è necessario avere un pochino il dito allenato e riuscire ad andare un pochettino a tempo. Quelli di voi che come me hanno suonato uno strumento saranno immensamente avvantaggiati. Bisogna imparare a suonare la tastiera perché bisogna premere il tasto M quando sentite il beat della canzone che si avvicina. In questo modo riusciamo ad avere una griglia preimpostata fatta da noi in 15 secondi letteralmente perché lo ascoltate una volta premendo il tasto M e la griglia è bella che fatta. Questa è sicuramente la parte più noiosa perché bisogna andare manualmente a mettere a posto tutte le foto. Ora io ho provato a impostare una durata inferiore quindi invece che 0.12 0.11 ma era troppo poco quindi 12 è probabilmente la distanza giusta anche se qualcuna ha bisogno di essere rimaneggiata a mano perché comunque il beat l'ho fatto io a mano quindi non sono tutte perfettamente uguali tuttavia tendo a fidarmi della mia mano e infatti più o meno cascano giuste. Vediamo che le operazioni sono terminate adesso andiamo a rivedere il nostro video andiamo a vedere il video e scopriamo che sì sostanzialmente abbiamo ottenuto quello che volevamo però c'è qualcosa che non va e lo sapete che cos'è quello che non va bene è che queste foto hanno una dimensione superiore a quello dello screen di un smartphone per cui quello che andiamo a fare adesso è che andiamo a intervenire localmente ridimensioniamo la prima foto. Se sono fatte tutte con la stessa camera e tutte con lo stesso orientamento ci darà una misura indicativa che poi possiamo tenere per tutte le altre foto in questo caso imposto la percentuale a 54 vado a fare anche un'altra operazione ovvero sfaso la foto abilito la timeline e vado a mettere un secondo punto che posiziono in questo modo dopodiché le seleziono entrambi e vado a selezionare curva di besieri in questo modo avrò una curva molto morbida e un passaggio molto dinamico su questa prima foto. Vediamo infatti che all'inizio si muove poi rallenta e poi riprende questo lo potete impostare a vostro piacimento io ve l'ho fatto vedere come piace a me ora andiamo sulla seconda foto abbiamo stabilito che possiamo stare intorno a un pochino più del 50 per cento diciamo 54 posizioniamoci alla fine e premiamo lo stopwatch posizioniamoci di nuovo all'inizio e premiamo un numerino più grande in questo caso 57 ora io rimetto le curve di besier anche su queste nuove immagini vado a posizionare i keyframe all'inizio e alla fine a questo punto abbiamo ottenuto un effetto transizione sulla prima foto se io seleziono la prima foto copio vado a selezionare tutte le altre foto tasto destro e incolla attributi avrò incollato su tutte le mie foto le stesse modifiche che ho applicato alla prima in questo modo in pochi clic ho ottenuto esattamente quello che volevo ovvero una 27 photos challenge perfettamente realizzata. ora non ci resta che esportare il nostro filmato per cui premiamo command m o control m esportiamo come sorgente con bit rate elevato in questa maniera non dobbiamo andare a reimpostare praticamente niente teniamo le impostazioni del filmato che abbiamo scaricato unica cosa io qui vado a dare un bel 12 quindi un pochino di qualità in più perché voglio che si veda anche bene siamo pronti per esportare. bene questo era il metodo più semplice più rapido più pratico che ho trovato io per realizzare questo tipo di contenuto all'interno di premiere vi dico che io realizzo questo contenuto con premiere per una serie di motivi di cui il più banale è semplicemente che si potrebbe realizzare anche direttamente tramite l'app ma mi trovo veramente scomodo a sincronizzare le foto a mano. insomma la griglia che ti dà a disposizione instagram o tiktok che dir si voglia la griglia che si ha a disposizione la timeline è molto scomoda sincronizzare le cose in quella maniera lì almeno per me che ho le dita grosse è veramente molto scomodo. a questo punto io vi invito a lasciare un like a questo video se avete imparato qualcosa cliccate anche il bottone iscriviti tanto è proprio lì di fianco vi invito nuovamente a farmi sapere che cosa ne pensate di questo setup per lo studio è modificato rispetto allo scorso video. ho cambiato qualcosina devo dire che man mano che sposto le cose tende a piacermi di più perché trovo una configurazione che si addica alle mie specifiche esigenze e anche perché no ai colori che ho addosso perché io posso modificare le luci ma i colori della mia faccia e dei miei capelli non li posso cambiare fatemi sapere che cosa ne pensate ci vediamo nei commenti. Grazie a tutti